Musica Vuoi vincere una skin ad V-Bucks gratis su Forte? Bastare iscriverti attivando la campanella, lasciare like e condividere il video. Più amici fare iscrivere, più possibilità di vincita avrai. Non mancherai nelle mie live su Youtube se vuoi vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Benvenuti, in questo video andiamo a vedere tutte le nuove sfide Oro Risvegliato che sono uscite oggi con la patch 12.21, una patch dove è stato aggiunto poco o niente soltanto queste sfide e hanno risolto alcuni bug in gioco. Queste sfide ci daranno due ricompense gratis, anche molto belle, e saranno in totale 4 sfide. Ogni sfida ci darà 100.000 XP e le sfide sono proprio della skin Oro. Ovviamente non dovremmo comprare questa skin per fare queste sfide, ma saranno ottenibili per tutti. Quindi la prima sfida ci darà di assisti i compagni con le eliminazioni. Dovremmo fare 10 assist ai nostri compagni, quindi è abbastanza semplice. La seconda sfida ci darà di giocare una partita con un amico per un totale di 10 partite, quindi 10 partite con i nostri amici dovremmo giocare. Anche questa è semplicissima, la completiamo in pochissimo tempo. Poi la terza ci darà di infliggere danni agli avversari per un totale di 1000 danni. Anche questa ci darà 100.000 XP. Ovviamente sono molto facili queste sfide. E la quarta sfida ci darà di raccogliere le medaglie. Le medaglie sono quelle che quando facciamo un'eliminazione, facciamo due eliminazioni di fila, il gioco escono in basso a sinistra e escono queste medaglie. E praticamente dovremmo collezionare 40 di queste medaglie. Quindi non so in quanto tempo ci farà questa, forse questa è quella un po' più complicata. Completando tutte queste quattro sfide otterremo il piccone della skin oro. Un piccone davvero molto molto bello. E completando due sfide qualsiasi otterremo invece la sua mimetica oro. Anche questa molto molto bella. La skin oro la possiamo vedere anche nel trailer dell'elicottero, del cioppa. Posso anche vederla che spara alla skin di Deadpool. Quindi se il video vi è piaciuto, lascia un bel like, iscrivetevi al canale per essere aggiornato su quando far uscire i tutorial di queste sfide e anche delle altre sfide, per essere facilitato nel completarle. Condividi il video a tutti i tuoi amici e se vuoi vincere skin dopo la battaglia, esegui le regole scritte a inizio video. E noi ci vediamo a un prossimo video. Grazie a tutti.